In data 11 luglio, l'Associazione Culturale da Ischialarte DILA, tramite il suo presidente Bruno Mancini, ha sottoscritto un accordo con la professoressa Dalila Bucalfa per l'apertura di una sede operativa dell'Associazione in Algeria. Abbiamo già avviato contatti con l'Istituto Italiano di Algeria per la condivisione di progetti culturali comuni, ha commentato la professoressa Bucalfa. Sentiamola. Lo avevamo già annunciato, l'Associazione DILA di Bruno Mancini sbarca in Algeria. Vediamo con quali progetti. Innanzitutto, professoressa Bucalfa, com'è stato questo incontro con l'Associazione Culturale di Bruno Mancini? Allora, Bruno Mancini l'ho conosciuto tra mia amica la poetessa Angela Maria Tiberi di Latina e mi ha fatto conoscere il signore Bruno. Il capo, come lo chiamo io, ha scelto di aprire una sede in Algeria, la prima in Algeria, a Blida dove vivo io. Il progetto ha cominciato l'11 luglio e siamo tutti contenti. Abbiamo cominciato, ho incontrato la signora Maria Battaglia, la direttrice dell'Istituto Italiano ad Algeria e abbiamo parlato, ho parlato con lei e abbiamo messo, era contenta del progetto e mi ha detto che è pronta a aiutare anche con consigli. Stiamo facendo, preparando le cose e adesso abbiamo iniziato, abbiamo tanti iscritti alla Dira Blida, ci sono delle pitture, ci sono scrittori, poeti, c'è Esma Medjeji con noi, c'è Ben Meisa, un pittore conosciuto a Blida, c'è Metawi, Muhtar, tutti quelli sono gente in Algeria, ci stanno anche la gente che lavora all'università. Sarà un bel incontro culturale, varie culture che si incontrano. Anche la canzone con Ayub Medjehad, un cantante giovane ma ha un talento meraviglioso. Lui scrive in arabo e con l'aiuto di altri scritti stiamo facendo la traduzione delle canzoni per metterle nel libro dell'antologia del signore Bruno Mancini e stiamo facendo le cose con arabo, francese, inglese. Così l'antologia sarà diversa questa volta e speriamo avere un successo così quasi tutti gli iscritti sono giovani. È una cosa giovane, nuova e speriamo fare belle cose. Il progetto è un jumlage, non lo so come si dice in italiano, un jumlage tra Ischia e Blida. Così facciamo insieme le cose. Così 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 Grazie a tutti.